Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo in un nuovo video e oggi faccio un video molto 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 veloce Cosa faccio? Sentite Dragon che sta sbatticciando, non so cosa sta facendo Sono l'amico di Polas Lui adesso non mi sente in questo esatto momento Vi andremo a regalare le armi che vedete Lui non sa niente di queste cose Oppure hai lasciato like Certo, lanciare l'elemente è qua Non l'abbiamo ancora finito Adesso andiamo a regalare le armi che mi fa vedere 298 Mi tengo il cielo, mi to' fuoco Vabbè, basta così Ma io sono spawnato in una parte Dove è? Eh sì, devi tagliare Aspetta Intendo possiamo sentire Cosa sta facendo Io ancora non l'ho capito Sto tornando dove ero prima C'è una scala enorme Eh Eccolo Gli ho regalato anche un'ultima Negli element walk Gli vale tantissimo Eccomi Intanto hai rivolto subito le armi Sì Ah se vuoi divare le armi Dove c'è il mio ID È qua Può Se vuoi divare Non è che ci abbia tante armi Ok perfetto Perfetto Aspetta ce l'avete dei Sono esattamente sulle 50, 60, 70 armi Sempre al 77 Perché al 130 Non so se aggiungerle Se no No al 130 Gli diamo C'è delle cose Che a me non mi entravano più Nell'inventario Che oramai Cioè sono al 77 Sempre buone Che a me Aspetta Quante le hai di scala fosse? Cioè Io ho le armi Ormai quasi progetto Me ne potresti dare un po' Al 106 Al 130 Quindi non mi servono più queste armi Adesso Tra un po' Quando finisce Gli dico Mi smuto Mi smuto Lo porto sempre in questa stanza E lo Perché siamo sul No sì Mi tolgo Allora non c'è E poi vediamo la sua reazione E ragazzi Vediamo quando Quando arriva Quando gli manca poco No non ce l'ho Ok raga Dragons è arrivato Adesso mi sono venuto Dragons puoi entrare? Sì dai Dai puoi entrare? Da me? Mi hanno dato Sono Un 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 No non posso entrare Allora invito Invito Aspetta Un Ponto spazio hai di inventario Un Poco Tipo? Facciamo un po' Diadoni Non mi va Aspetta Niente Dopo lo facciamo Poi dobbiamo fare anche la live su bat royal però sì 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 no su bat royal arena no quelle le armi non so tu e devo regalarli a un iscritto cosa sono sono delle armi no no non avvicinarti sono di un iscritto mio no mi dico le vorresti si prendi veramente si ma sono tutte al 77 no alcuni sono anche al 77 e monte manai elemento acqua alcune sono molto rare comunque sono molto rare alcune comunque bro tutte ste armi io te le do non ti entra deposita un po di armi e non posso prendi le tappo alas e nel deposito non puoi dimostrare ecco butta le armi più scarse oppure ricicla qualche anno più scarto aspetta se posso riciclo questo tutte queste tutte queste armi per un motivo perché ti mi sta aiutando a fare i video e tutto posso prendere questo mi servono si va bene che mi sta aiutando un sacco a fare i video e genera quindi ti meriti tutte queste armi telemeriti però te li meriti lo so erano tipo 30 posso prendere questo grazie tipo 70 armi ok grazie buona prego 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 e comunque sto facendo anche un video è un video un po' troll per te che ti va un sacco di cose ti è piaciuto si dai ok raga però per adesso è tutto tra pochissimo facciamo anzi subito facciamo la live il video finisce qua ti è piaciuto questo regalo si dai va bene ragazzi ci vediamo nel prossimo video ciao